segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te e ci dice che poi sui territori insomma nel microcosmo locale non sempre le dinamiche nazionali pesano quanto quanto ci ci aspettiamo osservando il dibattito in generale lì c'è però come dire una questione molto delicata di affluenza nel senso delle suppletive sono un tipo di elezione in cui generalmente vanno a votare in pochi o in pochissimi ci sono stati casi in sardegna abbastanza recentemente di affluenze intorno al 10 per cento degli aventi diritto quindi 9 elettori su 10 non sono andati a votare probabilmente insomma sarà superiore in realtà la partecipazione in questo caso di di monza però ecco è chiaro che quando vanno a votare così pochi elettori è più imprevedibile in un certo senso la partita perché è difficile capire chi andrà a votare e bastano relativamente pochi elettori mobilitati per determinare il risultato quello è un collegio in cui poi il centrodestra ha vinto molto largamente un anno fa con con silvio berlusconi candidato nel collegio uninominale e quindi diciamo da un lato penderebbe verso il centrodestra dall'altro è vero che se uno considera tutta l'area dell'opposizione potrebbe essere un po un po più in gioco ma lì alessandra l'hai sottolineato anche tu entrano poi in gioco delle dinamiche locali abbiamo sentito il sindaco che che insomma in un certo senso smentiscono anche forse quelle conclusioni a cui arriviamo guardando solo ai leader nazionali il sindaco ci trasmetteva forse un disagio che sul territorio c'è e che invece magari nella segreteria del partito democratico c'era meno ecco torniamo nella segreteria ma ha ragione mario la via dire il problema di ellish line della segreteria quindi la segretaria è conte in realtà al problema del pd e non è questo non non si è capito è un fattore importante quello che sottolineava mario la via un fattore importante per anzi sottolineo che qualche mese fa tutti pensavamo che schline sarebbe stato un problema per conte più che conte un problema per schline credo siano vere entrambe le cose perché comunque si contendono una fascia di elettorato simile insomma sovrapponibile in parte e conte diciamo a un elemento dalla sua un elemento a suo favore cioè che quando si va sulla valutazione personale noi lo vediamo sempre nei sondaggi conte è il leader che ha il gradimento maggiore rispetto ai voti del suo partito sicuramente rispetto a schline ma anche rispetto a meloni rispetto a salvini insomma tutti a tutti gli altri leader conte conserva comunque forse per la sua esperienza a palazzo chigi una qualche credibilità una qualche popolarità però ancora una volta che è personale poi oggi contrerà grillo ma insomma che ha poco a che fare con il passato antonio padellaro